Estendere i tamponi anche per asintomatici? Sì, il dato emergente è di asintomatici che diffondono contagio, l'aumento dei tamponi diventa una strategia importante. Nella parte della nostra regione dove i numeri sono ancora bassi, questa strategia ha una maggior possibilità di successo. Ci stiamo attrezzando nella zona di Ascoli Piceno con una macchina capace di processare 800 tamponi al giorno per dare un salto di qualità importante. Riusciremo così a quadruplicare la capacità produttiva di oggi. Lo ha detto alla stampa Luca Ceriscioli, il presidente della regione Marche, il 17 marzo scorso, il giorno in cui ci fu l'impennata dei decessi che arrivarono a 22 in una sola giornata. E questo perché, come più volte lui stesso ha detto, abbiamo una curva di crescita dei contagi simile a quella della Lombardia con qualche giorno di ritardo. Vedendo quello che è successo lì, da una parte siamo preoccupati, ma dall'altra ci stiamo rimboccando le maniche. Tutto bello e tutto positivo, però il fatto che questo screening venga fatto solo in una zona delle Marche e non nella provincia più colpita come quella di Pesaro ha suscitato lo sgomento e lo sdegno di molti cittadini residenti proprio nell'epicentro del contagio marchigiano, come anche l'avvocato Elisabetta Corraducci, fanese, che ha annunciato anche azioni legali. Se il presidente Luca Ceriscioli non estende anche al pesarese questa azione preventiva. Io ho chiesto all'ordine dei medici di prendere una posizione per chiedere di fatto i tamponi a tappeto su tutta la provincia di Pesaro e Urbino. La risposta ufficiale data dal governatore della regione Marche è stata su Pesaro è troppo diffuso, non riusciamo ad intervenire. La scienza, l'OMS e l'esperienza di Vò che ha risolto la pandemia proprio andando nel focolaio a prendere tutti i positivi anche asintomatici. Io avendo una laurea in giurisprudenza ho capito che l'unica tutela possibile è quella della giustizia e se le cose non cambiano sarò costretta a fare prima un esposto in procura e poi andare eventualmente avanti. L'evidenza scientifica mi darà ragione quindi non vorrei arrivare a tale accredine. Sono persone che io stimo, conosco e non vorrei metterli in difficoltà. Voglio solamente che si ricordassero il bene comune, cioè il loro lavoro e essere al servizio di tutti. Quindi in questo momento devono fare il meglio che possono, il massimo delle loro possibilità appunto. Se i fondi ci sono e abbiamo saputo che ci sono, bisogna utilizzarli.